Eccoci qua, rientriamo in onda ancora, buongiorno e mattina, ancora buongiorno raga, siamo in diretta piena mattina, pronti per raccontarvi novità, curiosità, news, territorio e proprio per questo diamo il benvenuto agli ospiti di oggi, sono due, diamo il benvenuto a loro, eccoli qua, benvenuti a Matteo e Romina, ciao raga, come state? Ciao, tutto bene. Buongiorno, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie davvero. Grazie a te dell'ospitalità. Grazie, ora intanto oggi abbiamo a che fare con due medici, quindi insomma parliamo di cose belle, cose importanti soprattutto e anche serie, quindi ecco che questo è importante, perché noi a tutti gli amici piace sempre raccontare tematiche importanti con un tono di leggerezza ma sempre con serietà, quindi grazie per essere oggi qua con noi. Intanto come state, come va Matteo, prego. Allora, buongiorno, intanto mi presento, sono Matteo Tosi, un medico chirurgo e sono qui con la mia collega. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Romina Causciai, specializzanda in dermatologia. Oh, oggi puntata, cioè devo stare anche molto attento, quindi puntata importante. Come state? Che sembra una banalità, la prima era quasi... Tutto bene, tutto bene. Bene, 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 bene. Allora sappiamo che poi voi insomma bravi, giovani, un sacco di voglia di fare e anche tematiche sociali importanti. Difatti qua, poi adesso vi cedo la parola, c'è proprio scritto medici, chiaramente come abbiamo ben capito, collaboratori a Perishow. Allora, parlatemi un po', io mi sono permesso di darvi del tu, grazie insomma per questo. Parlatemi un po', cosa succederà, cosa sta arrivando di bello e che cosa fate, come nasce il progetto. Allora, vi racconto brevemente che cos'è a Perishow. A Perishow è un evento che si terrà ad Arsego, in provincia di Padova, quest'anno, dal 21 al 25 aprile, come orario fra le 17 e mezzanotte e mezza. È un evento benefico che ha iniziato con la prima edizione del 2010. L'organizzatore di questo evento, che ringrazio in anticipo, è Riccardo Kekin, che ha accettato subito la nostra proposta di collaborazione. Noi collaboriamo con il mio format, che ho creato anni fa, di feste di beneficenza, Unimed for Charity. Quest'anno abbiamo pensato di dedicare un progetto specifico all'interno di Aperishow. Infatti sarà il primo anno in cui ci sarà una parte dedicata alla formazione e in particolare in quest'anno parleremo appunto di MST, una tematica molto importante e spesso poco trattata. Aperishow appunto è un evento che dal 2010 si occupa di fare beneficenza, è l'evento in Italia più grande del settore, con ospiti artisti nazionali e internazionali, fra cui avremo per esempio quest'anno il Pagante, Andrea Casta, Mauro Ferrucci e Andrea Damante. E niente, quindi sarà una festa per divertirsi sicuramente e anche appunto per fare del bene. Beh, tanta roba, oltretutto anche tanti partner, cioè veramente un progetto bello, divertente, ai giovani, per giovani, corretto? Durante l'evento infatti ci sarà una parte dedicata nella prima parte della giornata, soprattutto a famiglie, anche bambini con aree giochi. E poi dalle 17 in poi partiranno i DJ set con questi artisti che intratterranno il pubblico. Beh, insomma, intanto, come è nata l'idea, io chiedo, come è nata l'idea, che non è scontato, no? In primis, Matteo, la tua idea, quindi Unimed, cioè come è arrivata questa unione? Ok. Allora, praticamente l'idea è nata appunto facendo una festa benefica un paio di anni fa qui a Verona, in cui avevamo donato poi una discreta somma alla Pitonlus, che si occupa di servizi di psico-oncologia per pazienti oncologici e a medici senza frontiere. Poi è nata l'idea di collaborare con, appunto, Aperishow per unire le forze e unire anche il territorio di Verona per pubblicizzare questo evento, che secondo noi è molto importante, ha un bellissimo scopo, quello benefico, e di parlare di una tematica importante come appunto le MST. Bravi. No, nel senso, dico, è importante, cioè, tematica importante, ma soprattutto, secondo me, poi correggetemi, insomma, penso che, ecco, Poi Romina, raccontaci anche un po' la tua idea, cioè, penso che già sono tematiche chiaramente importanti anche da affrontare, ci vuole il contesto giusto, poi divertendosi ancora meglio, ma un conto è quando un giovane racconta un giovane, cioè, è bello, c'è attenzione, c'è ascolto. Esatto, diciamo che l'approccio non sarà quello di medico che parla con il paziente, bensì un giovane che si rapporta con un altro giovane in merito a tematiche così importanti e poco trattate, poco conosciute. Sì. Diciamo che la nostra idea, mia e della dottoressa Elena Mason, che sarà presente sul palco con noi, ricordiamo, dal 21 al 25 aprile, Sì. Durante la specializzazione, abbiamo notato che vi era una carenza di informazioni, soprattutto nei giovani, in merito a queste tematiche e quindi ci siamo ritrovati, diciamo, in parallelo con quello che è il pensiero, che è stato il pensiero del dottor Tosi, il quale invece ha avuto un'esperienza diversa, ma che ha portato a, diciamo, a stabilire questi obiettivi. Il dottor Tosi ha lavorato presso le scuole. Sì, a Vicenza, in dei licei, in cui appunto durante i corsi di primo soccorso le domande che venivano più frequenti da parte dei ragazzi non erano tanto su questa tematica, ma quanto, cioè, riferite all'affettività e all'ambito sessuale, in quanto avevano molti dubbi e molte perplessità su tante patologie e tanti anche metodi per evitare di incorrere in queste patologie. Quindi anche la risposta è stata comunque un successo, cioè la risposta dei ragazzi in questo caso. Sì, assolutamente. Sono comunque molto curiosi, anche perché interessa a tutti quanti, non è una tematica, diciamo, che interessa a tutti. Sì, certo. Ecco, mi corrego, no? Perché prima ho detto, ho detto, giovani, i giovani, i giovani, dovevo, mancava una cosa, giovani specializzati, è importante dirlo, cioè, nel senso, ecco, per giovani, perché questo è veramente quello che fa la differenza. Quindi grazie, è bella questa cosa, cioè, raga, energia a casa, cioè, aprite le orecchie, no? Perché sono cose che si tende sempre, proprio come ci raccontavano, a non parlarne, diciamo, a non parlarne troppo poco, forse, Sì, più che altro, dopo la grande paura che c'era stata negli anni 80 per HIV, in cui, appunto, c'era questo stigma di pazienti sieropositivi che venivano visti come al margine della società, non se ne è più parlato quando questa patologia è trasversale e può colpire qualsiasi persona nella società. Esatto, infatti quel giorno sarà presente anche la dottoressa Anna Mason, che è una psicoterapeuta, che aiuterà proprio ad affrontare il tema del perché un giovane non si presenta dal medico per parlare di una malattia sessualmente trasmessa, quindi, diciamo, affronterà anche questo tema molto, molto importante. Sì, direi sì, molto, molto importante. Intanto bravi, complimenti per quello che fate, che portate, perché è un bel messaggio e poi, insomma, unito anche ad un evento di divertimento. Esatto, esatto. Questo in primo insesso, però, per forza, regia, se siete d'accordo, devo per forza chiedere ai nostri dottori, andare un po' sul personale, qual è il vostro genere musicale preferito? Qua vi voglio, perché no? Pensano tutti che un medico, ora, facciamo così, prima prendo in causa me, no? Pensano che chi faccia musica, eventi, dice, no? Che debba essere, a poche regole, sempre felice, che possa rispondere, io parlo ora, che possa rispondere a qualsiasi giorno, ma più che altro di notte, più notte è meglio, e in realtà anche noi dormiamo ogni tanto e quindi qui voglio capire, no? Ricordatevi che i medici hanno anche una vita privata, hanno dei gusti, dei divertimenti, quindi voglio sapere qual è il vostro genere preferito poi in questo caso, prego. Beh, allora a me in particolare piace pop e commerciale, poi io sono cresciuto nel liceo con i tempi d'oro dei Linkin Park in cui... Tanta roba qua, tanta roba, tanta roba, prego. Anche io non vi deludo, commerciale, sempre. Eh, quindi comunque dai, temi radiofolici, però c'è in generale parliamo dei temi radiofolici di oggi, bene, eh, ero curioso, insomma, scusate, ma insomma qualcosa dovevo, ecco. Bene, allora, non abbiamo detto una cosa importante, seppur banale, come partecipare all'evento, ricordiamo ancora le date, se ci sono ingressi o ingrossi prenotazioni, qualsiasi cosa, prego. Allora, l'evento sarà entrata gratuita, sarà appunto a Darsego in provincia di Padua dal 21 al 25 aprile, chiaramente sul sito è possibile acquistare dei ticket per le zone riservate e i privè, di modo anche da chiaramente sovvenzionare poi la parte benefica che ci sarà. Quindi ci sono queste due modalità, un ingresso libero senza prenotazione andando direttamente là all'evento e un'altra parte in cui sul sito internet si possono trovare diversi ticket per supportare al meglio l'evento con anche gadget e ingresso privé in aree dedicate. Perfetto, prego. Venite numerosi. Beh, assolutamente sì, questo è importante. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te dell'ospitalità. Ultima cosa, tornate a trovarci, perché c'è veramente un sacco di, ci sono molte cose da dire, io ancora vi ringrazio, nel frattempo amici a casa le cose da dire sono molte, torneranno a trovarci, l'hanno già detto e io li invito già i strainvitati. A casa lasciate, fate come noi, i vostri segui in diretta, quindi fatelo per rimanere in contatto con tutte le news, poi anche su Aperishow lasciate il vostro segui e poi ancora insomma su chiaramente le pagine, i profili personali dei nostri dottori e anche in questo caso organizzatori. Quindi grazie davvero per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie mille. E allora grazie, andiamo avanti con la musica, siamo pronti, continuo la mattina, vi raccomando visto che di musica abbiamo parlato, temi sociali pure e musica si continua a parlare, alzate il volume, divertitevi, musica tra due e uno.